E' stata ultimata nei giorni scorsi la redazione del progetto definitivo a favore della Chiesa Santa Maria di Roncisvalle. Grazie ad un finanziamento concesso dalla Fondazione Carispa che è stato possibile redigere il progetto esecutivo ed appaltare i lavori di messa in sicurezza. L'importo stimato dall'architetto Francesca Ianna Morelli ammonta ad un totale di 326 mila euro per i lavori di ripristino della struttura e il restauro dei beni artistici presenti all'interno. L'ultimo restauro risale al 1966, da allora l'incuria, il sisma del 2009, le nevicate del febbraio 2011 hanno fatto aumentare la situazione di degrado in cui versa la Chiesa, di cui oggi viene pregiudicato anche l'aspetto statico. L'assessore lavori pubblici Stefano Goti afferma, dal monitoraggio effettuato in questi primi mesi di lavoro delle strutture presenti in città emerge che molti dei beni, parte del nostro patrimonio storico ed artistico, rischiano di scomparire. In questi giorni abbiamo provveduto a fare richiesta alla Regione Abruzzo per poter accedere ai fondi FAS destinati alla cultura e provvedere alla tutela di questa Chiesa, che è da considerarsi parte integrante del nostro patrimonio culturale. Obiettivo principale di questa amministrazione deve essere quello di restituire il giusto rispetto alla storia di questo territorio e alle sue bellezze architettoniche, commenta il sindaco Peppino Ranalli, sul Mona, conclude il primo cittadino, deve assolutamente elaborare e costruire le condizioni necessarie sulle quali rilanciare positivamente il proprio futuro e misurarsi intorno alla sfida di restituire dignità al valore imprescindibile della cultura.